buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial sulla scelta delle preferenze per chi è inserito in gps per le supplenze annuali o fino al termine le attività didattiche per l'anno scolastico 2022 2023 oggi parleremo degli spezzoni e di come si può chiedere il completamento dello spezzone richiesto in altra scuola in un intero comune nel distretto dove è quella scuola o nell'intera provincia in cui è inserita quella scuola andiamo subito a vedere come funziona la scelta dello spezzone facciamo il secondo video tutorial per la scelta delle preferenze in questo caso parleremo di tipologia di contratto ecco abbiamo visto la volta scorsa che si può entrare nella piattaforma per esprimere preferenze da questa icona ma si può fare anche l'accesso in alto a destra per entrare nell'area riservata attraverso lo speed una volta logati si va su istanze online e trovate nella parte alta dello schermo la visualizzazione delle gradatorie provinciali di supplenze dunque se cliccate qui troverete in quale classi concorso siete inseriti in gps con quale punteggio quale posizione e in riferimento anche alla fascia delle gps in cui siete inseriti e in quest'altro tasto invece entrerete proprio nella piattaforma per compilazione la domanda delle preferenze clicchiamo qui innanzitutto entriamo in una pagina dove si ci sarà l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi successivamente facendo avanti dunque accedendo al sistema si entrerà nell'elenco delle domande dove troverete diciamo che per informatizzazione del sistema tutte le classi di concorso per cui avete titolo di presentare domanda facendo ancora accedi entrerete nel modello di presentazione la domanda che in questo caso avrà questa impostazione perché la domanda è già stata inserita precedentemente facendo modifica entrerete in una pagina di anagrafica dei dati personali e facendo di nuovo avanti entrerete proprio nella compilazione della domanda una volta entrati nel modello di presentazione la domanda la prima sezione quella degli insegnamenti è automaticamente già compilata perché ci saranno tutte le classi di concorso che per cui avete titolo di presentare le preferenze in questo caso sono la 037 la 040 la 041 la 047 la 060 per le gradatori incrociate sul sostegno di seconda fascia la ad mm e la dss cioè il sostegno per le scuole medie e per le scuole superiori facciamo indietro e poi andiamo a esprimere le preferenze di supprenza annuale o fino al termine le attività didattiche inseriamo entriamo in questa scheda in cui avrete la possibilità di scegliere l'insegnamento ma anche la tipologia del contratto che volete o anche secondo un ordine di gradimento andiamo ad aggiungere una preferenza scegliamo per esempio la 060 scuola secondaria di primo grado tecnologia scegliamo il tipo di preferenza che vogliamo inserire per esempio quello di scuola e vedrete che per esempio scegliamo quella una scuola del comune di reggio calabria diamo diamo a al sistema un'informazione diciamo la scuola vitrioli diego vitrioli andiamo a cercarla il sistema ci ridarà la risposta di questa scuola con il suo codice meccanografico alfanumerico e noi andremo a inserire questa scuola selezionandola vedete e la scuola è comparsa automaticamente il tipo di contratto è quello diciamo migliore possibile annuale noi possiamo tranquillamente scegliere anche di dare al tipo di contratto oltre che l'annuale quello fino al termine delle attività didattiche è chiaro che se il sistema individuasse in questa scuola un contratto fino al termine le attività didattiche dunque fino al 30 giugno il sistema si fermerebbe darebbe la nomina e non procederebbe con le successive con l'ordine successivo del delle altre preferenze dunque fate attenzione se a metterle tutte insieme perché dovete sapere che il sistema si ferma se mettete lo spezzone anche in questo caso dovrete dire un minimo e un massimo il minimo dell'ospensione per le scuole secondarie di primo grado ma anche per tutti gli altri ordini di scuola è 17 il massimo per la scuola secondaria è 17 state dicendo che voi così volete qualsiasi tipo di spezzone lasciando così la domanda questa tipologia di contratto il rischio potrebbe essere che se il sistema trovasse uno spezzone alla scuola vitrioli di reggio calabria anche di 14 ore si fermerebbe e darebbe lo spezzone per cui se invece allo spezzone vogliamo un completamento vedete questa riga orizzontale comprende tutto ciò che riguarda lo spezzone lo spezzone potrebbe essere completato o nello stesso insegnamento per la 160 o anche per insegnamento diverso immaginiamo che lo vogliamo per lo stesso insegnamento si può contemporaneamente scegliere tutte e due le opzioni ma noi in questo diciamo video tutorial facciamo l'esempio dello stesso solo dello stesso insegnamento possiamo dire che per esempio vogliamo che questo spezzone venga completato all'interno della stesso comune di ubicazione della scuola vitrioli cioè il comune di reggio calabria oppure nello stesso distretto di reggio calabria dunque mettere voce distretto oppure in un'altra scuola di reggio calabria attenzione che l'altra scuola di reggio calabria dovrà essere indicata quantomeno come altra preferenza successiva alla preferenza della vitrioli dunque aggiungere questa preferenza significherebbe che si deve dare proprio la voce al stesso grado a un tipo di preferenza di scuola per esempio selezionando il comune per esempio sempre reggio calabria e andando a cercare un'altra scuola sempre di reggio calabria e dunque per esempio dare un altro nome tipo montalbetti e si va a cercare così un'altra scuola di reggio calabria che è la montalbetti reggio calabria per cui si va a inserire anche in questo caso si va a inserire a selezionare quest'altra scuola è chiaro che anche in questo caso bisogna dire siccome lo voglia completamento anche qui si vuole lo spezzone e dunque da un minimo di 7 a un massimo di 17 e dunque viene espressa anche l'altra scuola per cui si vuole il completamento lo confermiamo diciamo lo stesso insegnamento scuola aggiungi preferenza allora abbiamo queste due preferenze nel caso in cui il sistema trovasse uno spezzone di a 0,60 alla vitrioli e un altro spezzone da associare nella scuola montalbetti per esempio qui trovasse 11 ore qui 7 ore farebbe 11 più 7 18 e darebbe lo spezzone formato dalle due scuole che cosa diversa rispetto alle carte d'orario perché questa è sempre una carte d'orario ma creata dal richiedente possiamo notare come è possibile dare anche solo spezzone dunque se noi togliessimo annuale e termine le attività didattiche annuale giocheremo qui con preferenze di solo di solo spezzone oppure potremmo decidere di chiedere lo spezzone come prioritario e l'annuale come secondario utilizzando questa freccia che porta in basso vedete dunque viene prima lo spezzone e poi l'annuale la stessa cosa potrebbe essere fatta anche per l'altra scuola prima lo spezzone poi l'annuale oppure fare il contrario portare portare l'annuale come prioritaria che sembrerebbe molto più logico portare l'annuale come prioritaria portare la fino al termine le attività didattiche come secondaria e poi in extremis lo spezzone come ultima ecco fare una cosa del genere ripeto non è molto conveniente ma è possibile farlo normalmente invece sarebbe più conveniente mettere gli spezzoni cioè togliere questi spezzoni da queste richieste e magari inserire un ulteriore dopo aver scritto queste scuole un'ulteriore preferenza stavolta sempre sulla 060 questa volta con un intero comune scegliendo il comune di reggio calabria e magari in questo caso esprimere anche gli spezzoni per quanto riguarda il comune reggio calabria cioè dire al sistema che io voglio un annuale voglio fino al termine l'attività su reggio calabria poi voglio uno spezzone da 7 a 17 questo mi consente con la sintetica di fare dare molte opzioni molte combinazioni fare conferma dire che voglio completare e voglio completare sullo stesso comune di reggio calabria e così la preferenza è fatta è fatta ed è diciamo molto particolare perché comprende tutte le tipologie di contratto speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali facebook e youtube perché ci saranno altri video del genere che verranno pubblicati nei prossimi giorni o nelle prossime ore arrivederci a tutti grazie a tutti